Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Kenny Amane Demetos Demir hanno appassionato milioni di telespettatori nel mondo con la loro bellissima storia d'amore sul set. Per lungo tempo i fan della serie turca dei dreamer leali del sogno, hanno sperato che tra loro nascesse davvero l'amore, ed alcuni sostengono che sia così. Ma qual è la verità? Dopo tempo finalmente è stata fatta chiarezza circa la loro relazione. Dei dreamer leali del sogno, Demet e Ken hanno vissuto una storia. Tra i due protagonisti dell'amatissima soap turca si è creata una forte sintonia. Il feeling tra loro era palese ed è per questo che in tantissimi hanno sognato che tra loro potesse nascere una storia fiavesca anche nelle vita quotidiana. Dopo aver concluso le riprese della fiction, si è diffusa a macchia d'olio la news che tra loro fosse davvero nata una storia d'amore. Ma velocemente pare che i due abbiano deciso di lasciarsi e le motivazioni sono ancora oggi poco note, o meglio sconosciute. Ma la stampa turca ha dato qualche piccolo indizio, Demet e Ken, fine di un amore, ecco perché. Stando ai giornali locali i due si sarebbero lasciati in malo modo, bruscamente, smettendo di seguirsi reciprocamente sui social. A poco a poco è emerso che Ken e Demet avrebbero vissuto una profonda crisi dovuta ad un'insormontabile incompatibilità, i due secondo fonti vicine alla coppia, vivevano vite troppo diverse. Ma questa notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati che hanno sempre preferito osservare il silenzio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.